La nostra compagnia, la Mobi, come anche la Tirrenia hanno avuto dall'antitrust delle indicazioni a livello tariffare che stiamo assolutamente poi attuando, come per esempio il 50% di sconto sul ritorno dell'auto, i bambini gratis, uno sconto sulle cabine, questa è tutta una serie di pacchetti per favorire chiaramente il turismo, c'è da sperare che ci sia poi la pressione turistica e questo è il dato più preoccupante.